Una scuola di alta formazione per la sicurezza sui cantieri, rivolta prevalentemente ai professionisti del settore. Una sorta di alleanza tra chi opera tutti i giorni nei cantieri e le istituzioni per far sì che gli infortuni sul lavoro siano molti di meno. E' il progetto messo in campo dalla ASLBT assieme all'Ordine degli Architetti, quello degli Ingegneri e del Collegio Geometri della Sesta Provincia Pugliese e che ha visto oggi a Trani il primo incontro con il direttore dello Spesal dell'ASLBT, il dottor Raffaele Bellino. Un percorso costruito sul territorio e per il territorio in una forte alleanza, cioè tra tutti coloro che hanno un ruolo, almeno in questa fase, tecnico, specialistico sul cantiere ma sulle aziende in generale. Questo credo sia fondamentale. Peraltro il finanziamento viene dalle somme che ricaviamo dalle sanzioni. Quindi è come se ridiamo al territorio i soldi che il territorio ha pagato per gli errori, tra virgolette, che si sono commessi. Lo Spesal è in prima linea in questo senso, con una particolare attenzione al controllo e alle successive indagini. Ma la prevenzione è essenziale, passa soprattutto dalla formazione, come ha spiegato il dottor Bellino, ma anche dal controllo e dalla previsione. La Sla Bazzi è dotata da quasi 15 anni di un sistema informativo, quindi riusciamo meglio a capire il territorio perché leggiamo i suoi dati. Oltre ad avere un'azione diretta sul territorio, riusciamo a fare anche un minimo di azioni di intelligence che ci agevola. Noi riusciamo a calcolare un indice di rischio di cantiere, non è la certezza, però sapere di andare nei cantieri che hanno un maggior rischio ci fa utilizzare meglio le risorse che poi vengono dalle tasse dei cittadini fondamentalmente. Tra i promotori dell'evento, assieme agli ingegneri al Collegio dei Geometri della BAT, c'è l'Ordine degli Architetti della Sesta Provincia Pugliese, che con il suo presidente, l'architetto Andrea Rosselli, ha voluto rimarcare l'importanza della formazione su cui il nuovo Consiglio si sta fortemente battendo in questi anni. Il tema della sicurezza, lo sappiamo, è più che mai di attualità, purtroppo, devo dire, perché gli incidenti sui cantieri sono sempre più numerosi, dovrebbero diminuire, ma evidentemente c'è qualcosa che non va e quindi benvengano questi corsi che vanno a formare noi professionisti anche in situazioni diverse dal solito, cioè quindi con argomenti che a volte sono anche più legati alla medicina. Questi invece saranno un corso frontale, cioè con cinque discenti, un formatore, fra i discenti ci sono chiaramente dei tecnici che sono anche esperti, quindi sarà un confronto veramente che porterà sicuramente positività. Partner essenziale dell'iniziativa è naturalmente la ASLA BT, che ha sposato l'azione formativa messa in campo. Noi dobbiamo sempre migliorare la sicurezza sui cantieri a beneficio della salute dei lavoratori. Grazie.